Liam e la sua famiglia hanno deciso di provare a salvare gli ultimi mustang selvaggi. Gestiscono la riserva Wild Mountain già da qualche anno e Liam ci lavora con la madre. Mi ha invitata! Anche se non deve essere facile cercare di far aumentare il numero di mustang in una riserva naturale, è una meravigliosa occasione per passare un po' di tempo con questi splendidi animali nel loro ambiente. Ora ha un po' di tempo libero e potrò andare lì e aiutarli. Hanno molto da fare da quando c'è stata quella frana nella riserva. In ogni caso, non vedo l'ora di osservare questi cavalli selvaggi e magari farmeli amici.